Più di qualche difficoltà, al momento risultano essere il peggior reparto retrato del campionato. Le scelte del tecnico e dei patroni di casa per questa sfida. 4-3-3, il loro modulo di partenza con una punta d'area di rigore, due attaccanti larghi che dovranno provare gli uno contro uno, occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Pier. Dovranno sempre tenere d'occhi i tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Grazie per essere qui oggi e buon divertimento!